la signorina perla che buffa idea ho avuto questa sera di scegliere per regina della festa la signorina perla vado tutti gli anni a passare il giorno dell'epifania presso il mio vecchio amico chantal mio padre che era il suo compagno preferito mi ci conduceva quando ero bambino ho continuato e continuerò ad andarci senza alcun dubbio finché vivrò e finché ci sarà uno chantal in questo mondo d'altra parte gli chantal hanno un modo di vivere curioso trascorrono quietamente le loro giornate a parisi come se abitassero a grasse ivto o a pongamusson hanno una casa con giardino vicino all'osservatorio quella è proprio casa loro come in provincia di parigi della vera parigi non conoscono nulla non suppongono nulla anzi ne sono lontani così lontani eppure qualche volta vi fanno un viaggio un lungo viaggio la signora chantal va a fare le grandi spese dicono in famiglia ecco come si preparano le grandi spese la signorina perla che ha le chiavi degli armadi di cucina perché gli armadi della biancheria sono sotto la sorveglianza della signora stessa la signorina perla avvisa che il barattolone dello zucchero è vuoto che la conserva è finita sono rimasti pochi chicchi nel sacco del caffè così ravvisata contro la carestia la signora chantal passa in rivista i rimasugli prendendo appunti sul tacuino poi quando ha scritto molte cifre si impegna per lunghi calcoli e immediatamente in lunghe discussioni con la signorina perla ciò nonostante finiscono sempre col mettersi d'accordo e col fissare la quantità di ogni cosa la provvista che dovrà durare almeno tre mesi zucchero riso prugne secche caffè marmellate scatole di piselli di fagioli di astreco di eringhe salate o affumicate dopodiché fissano il giorno delle compere e vanno in carrozza da nolo una bella carrozza con la cupola a trovare un droghiero importante che abita al di là del ponte nei quartieri nuovi la signora chantal e la signorina perla fanno questo viaggio insieme misteriosamente e ritornano all'ora del pranzo sfinite ancora tutte emozionate nella carrozza la cupola è coperta letteralmente di pacchi e di sacchettini come il tetto ad una diligenza per gli chantal tutta la parte di parigi situata dall'altro lato della senna costituisce la zona detta i quartieri nuovi quartieri abitati da una strana popolazione rumorosa poco per bene che passa i giorni spendendo e spandendo la notte gozzovigliando tutta gente che butta il denaro dalla finestra eppure ogni tanto portano le ragazze al teatro o all'opera comica o alla comedia françoise quando la commedia ha avuto una buona recensione dal giornale che legge il signor chantal le ragazze hanno oggi 19 e 17 anni sono due belle figliuole grandi e fresche molto bene educate troppo bene educate così bene educate che passano inosservate come due bambole graziose e basta non mi verrebbe mai l'idea di innamorarmi o di fare la corte alle signorine chantal riesco a fatica a rivolgere loro la parola da quanto sono immacolate e ho paura di commettere una sconverianza soltanto se le saluto quanto al padre è un bell'uomo molto istruito molto leale molto alla mano ma che ama prima di ogni altra cosa il riposo la quiete e che in tal modo ha fortemente contribuito a mummificare la sua famiglia per vivere a suo agio in una stagnante immobilità legge molto parla volentieri e si intenerisce facilmente l'assenza di contatti di lotte gomito a gomito e di urti nella sua vita quotidiana ha reso assai sensibile e delicata la sua epidermide la sua epidermide morale la minima cosa lo commuove lo turba e lo fa soffrire tuttavia gli chantal hanno qualche amicizia qualche ristretta relazione scelta con cura nel vicinato e ricambiano due tre volte l'anno le visite dei parenti che abitano lontano quanto a me vado a pranzo da loro il 15 agosto e l'epifania è una tradizione che è diventata parte dei miei doveri come la comunione di pasqua per i cattolici il 15 agosto c'è anche qualche amico ma per l'epifania io sono il solo invitato estraneo alla famiglia dunque quest'anno come gli anni scorsi sono stato a pranzo dagli chantal per festeggiare quella ricorrenza che dalle nostre parti si chiama la festa dei re secondo gli usi ho abbracciato il signor chantal la signora chantal e la signorina perla e ho fatto un gran saluto alle signorine luise e pauline mi hanno fatto mille domande sugli avvenimenti della strada sulla politica su quello che si dice in giro degli affari di tonchino e dei nostri rappresentanti la signora chantal una grossa dama le cui idee mi hanno fatto l'effetto di essere quadrate come macigni da taglio ha l'abitudine di concludere tutte le discussioni con questa frase tutto seme cattivo per il domani chissà perché mi sono sempre immaginato che le idee della signora chantal siano quadrate non ne so nulla ma tutto quel che dice assume questa forma nel mio spirito un quadrato un grosso quadrato con quattro angoli simmetrici le idee di altre persone mi sembrano invece sempre rotonde e rotolanti come cerchi appena accennano una frase su un argomento qualunque a scivolare in difesa e il fatto si ripete per dieci venti cento idee rotonde grandi e piccole che mi sembrano correre una dietro l'altra l'altra sino al limite dell'orizzonte altre persone invece hanno le idee aguzze ma queste cose hanno poca importanza ci mettemmo a tavola e il pranzo si avviò alla fine senza che vi fosse nulla da ricordare alla frutta fu portata la focaccia dei re ora ogni anno era eletto re il signor chantal se fosse per effetto di un caso che si ripeteva ogni anno o di una convenzione familiare non lo so certo è che trovava infallibilmente il segno del re nella sua fetta di torta e proclamava regina la signora chantal così fui molto stupito quando sentii in un boccone di focazza qualcosa di molto duro che stava per rompermi un dente mi tolsi pian piano quella cosa di bocca e vidi una bamboletta di porcellana grossa sienò come un fagiolo esclamai ah per la sorpresa tutti mi guardarono e chantal gridò battendo le mani è gaston è gaston viva il re viva tutti ripeterono in coro viva il re e io arrossì sino alle orecchie come succede spesso senza ragione in queste situazioni un po' sciocche rimasi con gli occhi bassi tenendo fra le dita quel gingillo di porcellana forzandomi di ridere e senza sapere più che fare o che dire quando chantal continuò adesso bisogna scegliere una regina allora rimasi atterrito in un attimo mille pensieri mille supposizioni mi traversarono l'animo volevano forse che indicassi una delle signorine chantal era un mezzo per farmi dire quale preferivo era una dolce lezzera insensibile spinta dei genitori verso un possibile matrimonio l'idea del matrimonio girondola senza sosta in tutte le case in cui ci sono ragazze nubili e assume tutte le forme tutti i travestimenti si avvale di tutti i mezzi mi invase una paura atroce di compromettermi ed anche un'estrema timidezza davanti all'atteggiamento così ostinatamente corretto e chiuso delle signorine Luiselle Paulin e leggere una di loro a detrimento dell'altra mi sembrò difficile come scegliere tra due gocce d'acqua e poi il terrore di avventurarmi in una storia che avrebbe potuto condurmi mio malgrado fino al matrimonio pianino pianino con mezzi così discreti così inavvertibili e calmi come quella regalità da burla mi turbava terribilmente ma tutto a un tratto ebbe un'ispirazione e tesi alla signorina Perla la bambola simbolica tutti furono sorpresi da principio poi apprezzarono senza dubbio la mia delicatezza e la mia discrezione perché cominciarono ad applaudire furiosamente gridando viva la regina viva la regina quanto a lei quella povera zittellona aveva proprio perduto la testa tremava spaventata e balbettava ma no ma no non io ve ne prego allora per la prima volta nella mia vita guardai la signorina Perla e mi chiesi chi fosse ero abituato a vederla in quella casa come si vedono le vecchie poltrone foderate a fiorami sulle quali ci si siede dall'infanzia senza averci fatto attenzione un giorno non si sa perché un raggio di sole cade sulla poltrona e allora si esclama improvvisamente guarda è curioso davvero questo mobile e si scopre che il legno è stato lavorato da un artista e che la stoffa è molto originale così non avevo mai fatto attenzione alla signorina Perla faceva parte della famiglia Chantal ecco tutto ma come? a che titolo? era una donna grande e magra che si sforzava di passare inosservata ma che non era insignificante insignificante tutti la trattavano amichevolmente meglio di una donna di servizio meno bene di una parente all'improvviso mi resi conto di una quantità di sfumatura di cui fino ad allora non me l'ero affatto curato la signora Chantal diceva Perla le ragazze la signorina Perla e Chantal la chiamava soltanto signorina con aria più reverente forse mi mise ad osservarla che età poteva avere? 40 anni? sì 40 anni non era vecchia anzi si invecchiava da sola questa osservazione mi colpì subito si pettinava in modo grottesco con dei riccioletti fuori moda gonfi e ripieni e sotto questa acconciatura alla vergine conservata si vedeva una gran fronte calma tagliata da due rughe profonde due rughe di lunghe tristezze poi due occhi azzurri larghi e dolci così timidi così spauriti così umili due occhi rimasti ingenui pieni di meraviglie fanciullesche di sensazioni giovanili e anche di dolori interni che li avevano fatti più teneri senza appannarli tutto il viso era fine e minuto uno di quei visi che si sono spenti senza aver conosciuto vecchiaia senza essere stati sciupati dalle fatiche o dalle grandi emozioni della vita che bocca graziosa e che denti ma sembrava che non avesse coraggio di sorridere bruscamente la paragonai alla signora Chantal certo la signorina Perla era meglio cento volte meglio più fine più nobile più fiera ero stupefatto delle mie osservazioni intanto versavano lo champagne protesi il mio braccio verso la regina brindando alla sua salute con un complimento ben composto lei ebbe voglia me ne accorsi subito di nascondere il viso nella salvietta poi mentre bagnava le labbra nel vino chiaro tutti gridarono la regina beve la regina beve lei diventò rossa e il vino le andò di traverso risero tutti ma vidi che le volevano molto bene in casa appena il pranzo fu terminato Chantal mi prese per un braccio era la sacra ora del sigaro quando era solo andava a fumare per le strade quando c'era qualcuno in casa solevano andare al biliardo e cominciare a giocare durante la fumatina quella sera avevano acceso il fuoco anche nella stanza da biliardo per festeggiare l'epifania il mio vecchio amico prese la sua stecca una stecca finissima che strofinò di talco con gran cura poi disse a te ragazzo mio mi dava del tuo infatti malgrado i miei venticinque anni perché mi aveva veduto da bambino cominciai dunque la partita feci qualche carambola ne mancai qualche altra ma poiché il pensiero della signorina perla mi ronzava nella testa improvvisamente domandai ditemi un po' signor Chantal la signorina perla è forse vostra parente molto meravigliato egli smise di giocare mi domandò come non lo sai non conosci la storia della signorina perla ma no tuo padre non te l'ha mai raccontata no no guarda guarda che cosa buffa è strano che cosa buffa è tutta un'avventura tacque poi riprese e se sapessi com'è strano che tu mi chieda questo proprio oggi proprio il giorno dell'epifania perché perché sta a sentire sono passati da allora 41 anni 41 anni proprio oggi abitavamo allora a Roile Thor sui bastioni ma bisogna prima che ti spieghi com'era la nostra casa perché tu comprenda bene Roile è costruita su una costa o piuttosto su una collinetta che domina una grande vallata pianeggiante e verde avevamo là una casa con un bel giardino pensile poggiato sui vecchi muri dei bastioni dunque la casa era in città affacciava sulle strade mentre il giardino dominava la pianura vi era anche una porta di uscita da questo giardino direttamente sulla campagna in cima ad una scala segreta che discendeva nello spessore dei muri una di quelle come se ne incontrano nei romanzi una strada passava davanti alla porta munita ad una finestrella attraverso la quale i contadini per evitare un gran giro consegnavano le loro provviste hai capito com'era il posto vero? ora quell'anno il giorno dell'epifania nevicava da una settimana sembrava la fine del mondo quando andavamo sui bastioni per vedere la pianura ci faceva venire freddo nell'anima quel gran paese bianco tutto bianco ghiacciato e splendente come se fosse stato verniciato di fresco gli sarebbe detto che il buon dio aveva impacchettato la terra per mandarla nei granai dei vecchi mondi è sicuro che era triste molto triste la nostra era una famiglia molto numerosa allora papà mamma zio due miei fratelli e quattro cugine quattro belle ragazze io ho sposato la piccolina di tutta questa gente soltanto in tre siamo ancora vivi mia moglie io e mia cognata che sta a Marsiglia per dinzi come si sgrana una famiglia è una cosa che mi fa tremare quando ci penso avevo 15 anni allora adesso infatti ne ho 56 dunque stavamo per festeggiare l'epifania ed eravamo allegri allegri tutti aspettavamo che fosse pronto il pranzo nella sala grande quando mio fratello più grande Jacques si misia a dire ci deve essere un cane che urla nella vallata da dieci minuti si lamenta povera bestia forse si è perduto aveva appena finito di parlare che suonò la campana del giardino aveva un suono grave la campana di chiesa un suono che faceva pensare ai morti era brevidimbo mio padre chiamò il cameriere e gli disse di andare a guardare aspettammo in silenzio pensavamo alla neve che copriva tutta la terra quando tornò il cameriere asserì di non aver veduto nulla il cane urlava sempre senza fermarsi e la sua voce non cambiava di intensità ci mettemmo a tavola ma eravamo un po' scossi specialmente ai giovani tutto andò bene sino all'arrosto poi ecco che la campana si rimette a suonare tre volte di seguito tre grandi colpi lunghi lunghi che vibrarono e si ripercossero su di noi e ci mozzarono il fiato restammo a guardare con la forchetta in aria sempre in ascolto e invasi da un timore quasi soprannaturale mia madre parlò dopo un altro silenzio è molto strano che abbiano aspettato tanto per ritornare non andate solo Battiste uno di questi signori vi accompagnerà si alzò zio Françoise era una specie di Ercole assai fiero della propria forza e che non temeva nessuno al mondo mio padre gli disse prendi un fucile non si sa mai quel che può capitare mio zio prese soltanto il bastone ed uscì immediatamente con il domestico noi altri restammo a tavola frementi di terrore e di angoscia senza mangiare senza parlare mio padre cercò di rassicurarci vedete disse che sarà qualche mendicante qualche vagabondo sbarritosi nella neve avrà suonato la prima volta poi visto che non aprivamo subito ha cercato di ritrovare la strada buona e poiché non c'è riuscito è tornato alla nostra porta ci parve che l'assenza dello zio durasse un'ora alla fine tornò bestemmiando furiosamente niente porca miseria è uno che ha voglia di scherzare c'è solo quel cane che urla maledettamente a cento metri dai bastioni se avessi preso il fucile l'avrei ammazzato per farlo star zitto ci rimettemmo a mangiare ma tutti rimanevamo un po' ansiosi si capiva che la storia non era ancora finita che doveva ancora avvenire qualche cosa che la campana dopo poco tempo avrebbe suonato di nuovo e suonò proprio quando tagliavamo la torta dell'epifania tutti gli uomini di casa si alzarono contemporaneamente zio françoise che aveva già bevuto lo sfumante affermò che sarebbe andato a massacrarlo con tanto furore che la mamma e la zia si gettarono su di lui per impedirgli di uscire mio padre benché assai calmo e non nel pieno delle forze trascinava un po' con una gamba che si era fracassata dopo una caduta da cavallo dichiarò a sua volta che voleva sapere cosa fosse e che sarebbe andato a vedere i miei fratelli di 18 o 20 anni corsero a cercare i loro fucili e poiché nessuno faceva caso a me potei impadronirmi di una carabina da giardino con la quale contavo di seguire la spedizione partimmo subito papà e lo zio camminavano avanti con Baptiste che reggeva una lanterna dopo venivano i miei fratelli Jacques e Paul e io per ultimo malgrado le suppliche di mamma che era rimasta con la sorella e le mie cuginette sulla soglia di casa da un'ora la neve aveva ripreso a cadere gli alberi ne erano carichi gli abeti si piegavano sotto quel pesante abito livido simili a piramidi candide da enormi pan di zucchero e vedevamo attraverso il velario grigio dei fiocchi minuti e fitti gli arbusti più leggeri sbiaditi assorbiti dall'ombra la neve cadeva con tale abbondanza che vedevamo appena entro un raggio di dieci metri ma davanti a noi la lanterna proiettava un gran chiarore quando cominciamo a scendere per la scala a chiocciola scavata nei bastioni ebbi paura davvero paura mi sembrò che qualcuno camminasse dietro di me pensai che mi avrebbero preso alle spalle e portato via ed ebbi voglia di ritornare indietro ma poiché bisognava riattraversare tutto il giardino non ebbe il colaggio intesi che riaprivano la porta di strada poi mio zio li cominciò a sacramentare diavolo che se lo porti se n'è riandato se vedo soltanto la sua ombra non riderà più parola d'onore quel coglione là era uno spettacolo sinistro osservare la vallata o piuttosto presagirla davanti a noi perché non si riusciva a vederla non vedevamo che un velo di neve sterminato in alto in basso a destra a sinistra ovunque mio zio riprese senti ecco il cane urla nuovamente vado a fargli sentire come tiro io sarà sempre tutto di guadagnato mio padre che era un buon uomo replicò è meglio andare a cercare quella povera bestia che urla per la fame chiede soccorso chiama come un uomo in pericolo su andiamoci e ci rimettemmo in cammino attraverso quella cortina quella pioggia fitta fitta quella schiuma che riempiva la notte e l'aria che si muoveva ondeggiava cadeva e ghiacciava la carne quando si scioglieva con la stessa sensazione di una scottatura con un dolore vivo e rapido sulla pelle che veniva a contatto con quei piccoli fiocchi bianchi affondavamo sino ai ginocchi in quella pasta molle e fredda bisognava sollevare molto alta la gamba per camminare a mano a mano che avanzavamo la voce del cane si faceva più chiara più forte mio zio gridò eccolo e ci fermammo a guardare come si fa in faccia ad un nemico che si incontra di notte non vedevo nulla io raggiunsi gli altri e finalmente lo scorsi era uno spettacolo pauroso e fantastico un cane un gran cane nero un cane da pastore con il pelo lungo lungo e la testa di rupo dritto sulle quattro zampe al centro della lunga striscia di luce proiettata dalla lanterna sulla neve non si muoveva taceva e guardava attorno mio zio disse è strano rimane immobile che voglia di tirargli una fucilata mio padre dispose con voce ferma no bisogna prenderlo allora mio fratello Jacques aggiunse ma non è solo c'è qualcosa vicino a lui effettivamente c'era qualcosa dietro al cane qualcosa di indistinguibile una massa confusa grisastra ci avvicinammo con precauzione vedendo che andavamo verso di lui il cane si accucciò a terra non aveva più l'aria cattiva sembrava anzi piuttosto contento d'essere riuscito ad attirare qualche persona mio padre andò direttamente verso di lui e lo accarezzò il cane gli leccò le mani ci accorgemmo allora che era attaccato alla ruota di una carrozza una carrozzella minuscola tutta chiusa da tre o quattro coperte di lana togliamo con cura le coperte e mentre Baptista avvicinava la lanterna all'apertura della carrozzella simile a una cucetta rotolante vedemmo che c'era dentro un bambino addormentato fummo talmente stupefatti che nessuno riuscì a spiccicare qualche parola mio padre si rimise per primo e poiché era un uomo di gran cuore ed animo un po' esaltato stese la mano sul letto della carrozzella e disse povero figlio abbandonato sarai dei nostri e ordinò mio fratello Jacques di portare a casa la nostra scoperta poi continuò pensando a voce alta qualche figlio dell'amore la povera madre deve essere venuta a suonare alla porta durante questa notte dell'epifania in ricordo del bambino divino si fermò di nuovo e con tutta la sua forza gridò attraverso la notte verso i quattro angoli del cielo l'abbiamo raccolto poi poggiando la mano sulla spalla del fratello mormorò e se avesse tirato al cane françoise mio zio non rispose ma si fece nell'ombra un gran segno di croce perché era religiosissimo malgrado le sue arie spavalde avevamo liberato il cane che aveva cominciato a venirci dietro ah che bello spettacolo quel nostro ritorno a casa faticammo assai da principio a far salire la carrozzella sulle scale dei bastioni eppure ci riuscimmo e la facemmo avanzare sino all'atrio la gioia di mamma allora com'era contenta e indaffarata e le cucinette la piccolina aveva sei anni sembravano quattro gallinelle intorno ad una covata finalmente togliemmo il bambino che era ancora addormentato dalla carrozzella era una bambina di poco più di un mese e tra la sua biancheria trovammo dieci mila franchi in oro sì dieci mila franchi che mio padre mise in una banca per poterle costituire una dote non era dunque la creatura di povera gente ma forse la figlia di qualche nobile con una borghese di città oppure abbiamo fatto mille supposizioni e non c'è mai saputo nulla mai nulla anche il cane non venne riconosciuto da nessuno non era un cane del paese in ogni caso colui o colei che era venuto a suonare per tre volte alla nostra porta doveva conoscere bene i miei parenti per averli precelti ecco come all'età di poco più di un mese la signorina Perla entrò a far parte della nostra famiglia la ribattezzammo Perla soltanto qualche tempo dopo da prima le erano stati posti i nomi di Marie Simone Claire a casa avevamo stabilito di chiamarla Claire che bell'ingresso trionfale vi assicuro fu quello quella pupetta sveglia che osservava attorno a sé la gente e i lumi con i suoi occhi vaghi azzurri e velati ci rimettemmo a tavola e fu divisa la torta tocco a me di fare il re e per regina presi come hai fatto tu stasera la signorina Perla quella volta non si poteva rendere conto dell'onore che le facevamo così adottammo la bambina e lei crebbe in famiglia crebbe e gli anni trascorsero era gentile dolce obbediente tutti le volevano bene e avrebbero finito col guastarla se mia madre non l'avesse impedito mia madre era una donna ordinata e autoritaria era disposta a trattare Claire come una figlia ma teneva anche a conservare la distanza che ci separava a stabilire nettamente le nostre rispettive situazioni così quando la bambina pote comprendere le fece conoscere la sua storia e con molta dolcezza anzi con tenerezza fece entrare nell'animo della bambina la consapevolezza che lei era per gli Chantal una figlia adottiva raccolta sulla strada una stranea tutto sommato Claire comprese questa situazione con singolare intelligenza con un istinto sorprendente e seppe prendere e mantenere quel posto che le era concesso occupare con tanto tatto tanta grazia e tanta intelligenza che mio padre ne era commosso sino alle lacrime persino mia madre fu così commossa dall'appassionata riconoscenza e dalla timida devozione della ragazzina che si mise a chiamarla figlia mia qualche volta quando aveva compiuto qualche buona azione quando aveva avuto un pensiero delicato mia madre si sollevava gli occhiali sulla fronte atto che indicava abitualmente che era commossa e ripeteva ma è una perla una perla questa bambina e il nome rimase così alla piccola Claire che per noi diventò la signorina perla il signor Chantal tacque era seduto sul biliardo dondolava i piedi e con la sinistra maneggiava una biglia mentre con la mano destra gualciva un censo che serviva a cancellare i punti sulla lavagna di Ardesia e che noi chiamavamo lo straccetto del gesso un po' rosso la voce sorda e come emozionata parlava per sé in quei momenti perduto nei ricordi e riandando alle cose antiche attraverso avvenimenti dimenticati che si ridestavano nei suoi pensieri come si fa passeggiando nei vecchi giardini di famiglia in cui siamo stati allevati e in cui ogni albero ogni sentiero ogni pianta i pungitoppi aguzzi i lauri profumati i tassi la cui grana rosa e grassa si sfarina tra le dita fanno sorgere ad ogni passo un piccolo episodio della nostra vita passata uno di quei piccoli fatti insignificanti e deliziosi che formano il fondo stesso la trama dell'esistenza restavo di fronte a lui addossato alle pareti con le mani poggiate sull'inutile stecca da biliardo dopo un attimo continuò Gesù com'era bella a diciotto anni e gentile perfetta ah com'era bella 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 e buona e brava una ragazza meravigliosa aveva certi occhi certi occhi azzurri trasparenti chiari come non ne ho mai veduti di simili mai allora d'acque chiasi perché non si è sposata rispose non a me ma alla parola sposata che passava nell'aria perché perché non ha voluto non ha voluto mai pure aveva trentamila franchi di dote l'hanno chiesta parecchie volte non ha mai voluto sembrava molto trista in quell'epoca era proprio al tempo del mio matrimonio con mia cugina Charlotte che ora è mia moglie e con la quale sono stato fidanzato per ben sei anni io guardavo il signor Chantal e mi sembrava di penetrare nel suo spirito di penetrare all'improvviso nel vivo di uno di quei drammi umili e crudeli che si svolgono nei cuori onesti nei cuori leali senza peccato in uno di quei cuori che non conoscono la confessione l'introspezione sconosciuti a tutti anche da coloro che ne sono le vittime mute e rassegnate e poiché un'acuta curiosità mi spingeva all'improvviso pronunciai queste parole avreste dovuto sposarla voi signor Chantal Trasalì mi guardò e rispose io sposare chi? la signorina Perla perché? perché volete più bene a lei che a vostra cugina mi guardò con due occhi strani rotondi spaventati poi balbettò l'ho voluto bene io? come sarebbe a dire? chi te l'ha detto? perbacco si vede ed è per causa della signorina Perla che avete tardato tanto a sposare Charlotte che vi aspettava da sei anni Chantal poggiò la stecca che teneva con la mano sinistra prese con tutte e due le mani lo straccetto del gesso e coprendosi il viso con quello cominciò a singhiozzare piangeva in una maniera desolante e ridicola come piange una spugna strizzata con gli occhi il naso la bocca nello stesso tempo e tossiva scatarrava si soffiava il naso in quel censo si asciugava gli occhi starnutiva ricominciava a fondersi in lacrime da tutte le pieghe del viso con un rumore di gola che faceva pensare ai gargarismi io intimidito vergognoso avevo voglia di scappare e non sapevo più cosa dire cosa fare cosa escogitare e all'improvviso risuonò per le scale la voce della signora Chantal avete finito la fumatina aprì la porta e urlai si signora si scendiamo poi mi precipitai verso il marito e lo presi per le braccia signor Chantal amico mio statemi a sentire vi chiama vostra moglie ricomponetevi presto ricomponetevi dobbiamo scendere via farfugliò si vengo si povera donna vengo dille che vengo e cominciò ad asciugarsi coscienziosamente il viso con il censo che da due o tre anni cancellava tutti i segni del gesso poi fece la sua comparsa mezzo rosso mezzo bianco con la fronte il naso le guance e il mento sporcati di gesso e con gli occhi ancora gonfi di lacrime lo presi per mano e lo trascinà in camera sua mormorando vi chiedo perdono signor Chantal di avervi fatto soffrire ma non sapevo voi voi capirete mi stringeva la mano sì sì ci sono dei momenti difficili poi si lavò il viso in un catino quando ebbe finito non era ancora presentabile ma trovai una piccola scusa un espediente poiché si inquietava guardandosi nello specchio gli suggerì basterà raccontare che avete un bruscolo nell'occhio e potrete piangere davanti a tutti finché vorrete e discese infatti strofinandosi gli occhi con un fazzoletto si inquietarono ognuno volle cercare il granellino di polvere che non si trovò e raccontarono di casi analoghi in cui era stato necessario andare da un dottore io ero vicino alla signorina Perle e la osservavo tormentato da un'ardente curiosità una curiosità che diventava sofferenza doveva essere stata molto graziosa infatti con i suoi occhi dolci così grandi così calmi così profondi che aveva l'aria di non poterli chiudere mai come gli altri esseri umani il suo vestito era un po' ridicolo un vero vestito da zittellona che la faceva disadorna senza ingoffarla mi sembrava che vedessi in lei come poco prima avevo veduto nell'animo del signor Chantal che vedessi dal principio alla fine quella vita umile semplice e devota ma mi veniva alle labbra un tormentoso desiderio di interrogarla di sapere se anche lei lo aveva amato se aveva sofferto come lui di quella lunga pena segreta acuta invisibile e non conosciuta e non facile ad indovinarsi ma che prorompeva di notte nella solitudine di una stanza buia la osservavo vedevo battere il suo cuore sotto il corsetto con l'alto soggolo e mi chiedevo se quella dolce figura candida aveva pianto ogni sera contro il molle rifugio del guanciale e singhiozzato con il corpo scosso da tremiti nella febbre di un letto che bruciava di desiderio e le dissi allora pian piano come fanno i bambini quando hanno rotto un giocattolo per vedere come era fatto dentro se aveste veduto piangere poco fa il signor Chantal vi avrebbe fatto una gran pena lei trasalì come piangeva oh sì piangeva e perché sembrava molto commossa gli risposi per causa vostra mia sì mi raccontava di quanto vi aveva amata in altri tempi e quanto aveva patito a sposare la cugina invece di voi mi parve che la sua figura pallida si allungasse un poco che occhi sempre aperti e calmi si chiusero di colpo tanto velocemente che parvero chiusi per sempre scivolò dalla sedia sul pavimento e vi si accasciò dolcemente lentamente come una sciarpa gridai aiuto aiuto la signorina Perla si sente male la signora Chantal e le figlie si precipitarono da me e mentre erano ingaffarate a cercare l'acqua una pezzuola e l'aceto presi il cappello e scappai me ne andai a gran passi il cuore scosso l'animo pieno di rimorsi e di rimpianti eppure ogni tanto mi sentivo lieto come se avessi fatto una cosa degna di lode necessaria mi chiedevo ho fatto male ho fatto bene avevano quel segreto nell'anima come si conserva il piombo in un astuccio ben chiuso non saranno più felici mi domandavo era forse troppo tardi perché ricominciasse la loro tortura e troppo presto perché potessero ricordarla con tenerezza e forse una sera della prossima primavera commossi da un raggio di luna caduta sull'erba ai loro piedi tra i rami si abbracceranno e si stringeranno la mano memori di tutta quella sofferenza soffocata e crudele e può essere anche che questa breve stretta farà trascorrere nelle loro vene parte di quei fremiti mai conosciuti e inonderà questi morti in un attimo risuscitati una sensazione veloce e divina di quell'ebbrezza di quella follia che dà agli innamorati una felicità maggiore in un solo trasalimento di quanta ne possono cogliere in tutta la vita gli altri uomini grazie a tutti